Eder. Mech. Pallister. Una donna di 57 anni è stata brutalmente aggredita a Pietra Ligure, in provincia di Savona, all'ingresso di un palazzo situato in via Emanuele Accame. Secondo le prime informazioni, la vittima è stata colpita alla testa da un oggetto contundente pochi metri prima di raggiungere la sua abitazione. Sul alluogo dell'aggressione sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118 e la donna, in gravi condizioni, è stata immediatamente trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento, i carabinieri stanno svolgendo le indagini e stanno considerando la possibilità che l'ex marito possa essere coinvolto nel vile gesto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.